Do il benvenuto appunto a Fabio Lupo che giustamente tu dicevi di parlare delle sue caratteristiche e io ne ho già parlato ma perché credo che sia l'uomo giusto perché ho trovato in lui intanto una persona a modo, educata, acculturata e soprattutto con tantissima esperienza nel mondo del calcio. Mi è sembrato molto disponibile a concetti di collaborazione, sia l'umiltà che la determinazione che sono due qualità fondamentali per vivere il calcio. Il territorio per nome del sindaco abbiamo ricevuto conferma di contattare 5 imprenditori che hanno già dato la loro disponibilità al sindaco di esserci vicino in modo importante questo anno per far sì che questo programma vada in onda e sia sostenuto anche dal territorio in modo importante. Penso tutti i giorni alla possibilità di vendere questo ascolio, di cedere o di sottrarmi però poi quando arrivo alla resa dei conti probabilmente trovo sempre mille motivazioni per continuare. Sicuramente non fa parte delle mie caratteristiche quello di uscire un po' da perdente, questi tre anni non sono stati tre anni importanti, tre anni dove abbiamo raggiunto a malapena la salvezza nonostante ingenti investimenti, perciò significherebbe uscire in un modo non adeguato. Sappiamo che c'è la volontà di ricostruire in modo veloce una curva sud sicuramente provvisoria, queste sono le notizie di cui sono a conoscenza, poiché ricostruirla come andrebbe fatta probabilmente ci vorrà del tempo. C'era un tema nel quale ci siamo introdotti parecchio tempo fa del rifacimento di uno stadio, è un discorso per ora messo in stand by ma ci stiamo ancora facendo delle analisi all'interno. Di base siamo stanchi di soffrire, sono due anni e mezzo che soffriamo, a questo ci si è aggiunto il peso della pandemia e credo che quest'anno, grazie appunto al dazio pagato dei primi tre anni che hanno fatto l'esperienza di questa società, sicuramente ne faremo tesoro. Poi in cuor mio conto sempre di arrivare a fare i playoff, perché dico sempre a tutti quanti i miei collaboratori affrontare un campionato con 20 squadre e non ambire ad essere i tre primi otto, la domanda è perché vai a giocare. In Ascoli alcuni capiscono che io ho promesso i playoff, io non ho promesso nulla, io ho parlato degli obiettivi che questa società per forza si deve dare, dopodiché come ha detto Fabio Lupo io mi trovo totalmente d'accordo con lui e con il mister Sottil, noi affronteremo una gara alla volta e lavoreremo per cercare di vincerle tutte, questo è il nostro vero obiettivo.